Ciao, un album molto simpatico e particolare è questo super album, Storia e miti del calcio italiano, che fu pubblicato con la Gazzetta dello Sport, o meglio, con i fascicoli dedicati all'accolta degli album dei calciatori, che furono pubblicati verso il 2003-2004. Praticamente una serie di fascicoli che presentavano tutti gli album dei calciatori, delle figuri dei calciatori, e c'era in regalo ogni album una bustina per completare la raccolta di questo album, che è molto interessante, forse è anche unico, per quanto riguarda praticamente il discorso della storia del calcio. Infatti, partendo dagli anni 40, da Cannetorino, ci sono figurine che ripercorrono tutta la vita del nostro calcio. E' molto bello e interessante, perché si escono i campioni, dal Milan, all'Inter, alla Fiorentina, a Via di Scorrendo, al Cagliari, alla Juventus, alla vittoria del Torino nel 1976, tutte le pagine importanti del nostro calcio, mondiali dell'82, la Sampdoria, tutti i grandi avvenimenti con queste figurine, che praticamente l'album si conclude poi con i mondiali del 2000, si conclude, se non sbaglio, con l'immagine del 2004, con Roberto Baggio, che lascia il mondo del calcio. Quindi un album molto particolare, molto simpatico, ricordo questo super mondiale, pubblicato all'epoca in sintonia con la raccolta degli album dei calciatori e delle Panini, sempre per quanto riguarda la Gazzetta dello Sport. Ciao e alla prossima!